sviluppo investimenti io inserirei anche la parola lavoro perché sviluppo ormai l'area è fruibile così come si vede abbiamo portato a termine a quello che doveva essere un obiettivo prioritario il completamento dell'area pip quindi parliamo di lavori pubblici ampliamento perché già abbiamo approvato in giunta quello che sarà l'ampliamento della zona industriale così come già era ben previsto all'interno del piano urbanistico comunale punteremo agli investimenti perché dovremo dotare la nostra area industriale di autosufficienza quindi dovremo creare all'interno della zona industriale una comunità energetica lavoro perché metteremo in sinergia il nostro settore di politiche sociali il comune e gli imprenditori attraverso quello che il concetto di sostegno al reddito solidale